Musica in fiera, Aurum, Pescara, produttori e distributori di strumenti musicali, liuteria, audio professionale, luci, seminari, convention, sale demo, palco mobile, demo line array. Non perdere l'opportunità di scoprire qualità artigianali, tecnologie innovative, espositori da tutta Italia, grandi brand nazionali e internazionali. 1 e 2 ottobre 2022, Aurum, Pescara. Musica in fiera, la numero uno in Italia. Musica in fiera, la numero uno in Italia.